Ciao mio caro amico aspirante e trader professionista e profittevole ecco il trade profittevole che ho fatto oggi venerdì 8 giugno 2018 come vedi nel market profile la sessione overnight è andata molto fuori sotto al range pitusa di ieri, di giovedì e abbiamo riaperto nel centro del range questa screen è stata scatta 1 minuto e 13 secondi prima dell'apertura al mighty è entrato long, ti faccio vedere perché è entrato long e subito la rottura con una tecnica che praticamente mi ha insegnato, mi ha insegnato mi accennò un edge fund manager parecchi anni fa e l'idea parte da questo grafico qua, dopo ti faccio vedere perché allora praticamente ho messo 3 contratti long con target il POC della sessione pitusa di ieri, vabbè non mi vedi e il mio stop loss è un tick sotto a questa linea blu, questo livello di bassi volumi ok? allora il mercato mi vedi appena sono entrato è esploso, va bene? perché siamo entrati nella value area low di ieri, va bene? quindi il prezzo era destinato a rialzo, il view up mi vedi era a rialzo e quindi sono andato long sono sotto la mia posizione e il mercato però che ha fatto? siccome non sai mai in quanto tempo il mercato può andare a tuo target il mercato è stato in questo range per tanto tempo come vedi però qui ci sono grossi compratori, smart compratori, molto intelligenti e hanno comprato proprio nella prima candela del futuro in 30 minuti il mercato assorbe gli ordini di acquisto e continua a rimanere in questo range destinazione il POC della sessione di ieri, il POC, la zona di massimi volumi come vedi nel grafico a candela di volumi da un'ora il mercato ha fatto questa pescata qui, proprio un tick prima del mio stop loss per andare a una zona di alti volumi, va bene? allora ti faccio vedere quanto il mercato è stato in questo range come vedi ha stampato ancora ordini di acquisto questi sono tutti i compratori smart che comprano con il view up questa è la struttura del market profile e questo è il footprint a 5 minuti come vedi tutti i compratori smart a livello del view up ok? il mercato sta lì ancora, sta lì ancora, sta lì ancora assorbe gli ordini di acquisto come vedi qui c'è questo sequenza al decline con questo grosso ordine di acquisto qua su questo andrà un minuto è eccezionale da imparare questa cosa quando accade ti fa capire che loro stanno accumulando long bene, il mercato vuole andare a rialzo ma è continuamente frenato da shortisti che vogliono shortare a prezzi sbagliati, va bene? io metto altri due ordini di acquisto su questo livello interessante il mercato aspetta un po' lì sembra che vada a prendere il mio target ma non me lo prende per un tick come vedi su questo livello importante c'è un grosso ordine di acquisto di 466 ordini e a questo livello il mercato comincia a salire come vedi prende il mio ordine e acquisto gli altri due contratti il mercato comincia a salire i venditori che tentano di vendere in realtà iniziano a ricoprire le deposizioni e il mercato accelera a rialzo perché sono intrappolati gli shortisti sono intrappolati i shorti devo ricoprire e il mercato accelera come vedi sta andando con altri due contratti ho messo un target di mezzo in questa zona va bene? e va verso i miei target il mercato accelera prende i miei primi due target poi come vedi va verso questo grafico come vedi l'evoluzione dell'accumulazione long per poi esplodere io ho scelto proprio lo stop loss il livello giusto per mettere il mio stop loss il mercato è andato a prendermi il mio target ma vedi il grafico a 5 minuti quest'anno della 5 minuti ha fatto la pescata e andavo dritto a prendermi il mio target eccolo qua io a questo punto ho mosso il mio stop loss in trading stop profit un tick sotto a questo grosso ordine di acquisto di 344 ordini e ho aspettato del mercato faccio il soccorso andandome a prendere i miei ordini e ho chiuso la giornata con 487 dollari bene l'idea di questo trade caro amico viene solo se è stato testificato e come vedi il trade è venuto all'ingresso durante la sessione overnight nella value area di ieri rompendo la value area di ieri e con il move up proiettato al rialzo il mercato non ha fatto altro che entrare dentro con un pullback a un ldn come vedi questo è il mike profile è quello che è accaduto però caro amico se tu vuoi tradare a questo livello e fare anche meglio le al mike ti consiglio di mandare la tua storia al link che trovi sotto a questo video ti prometto ti contatterò parleremo assieme e vedremo se hai tutti i requisiti per entrare nella mia diversificazione per trading e nel mio mentoring specificamente disegnato per farti diventare un trader professionista nel mercato del future delle azioni e delle opzioni io ti auguro grossi e grazie e profitti ad ogni tua prossima sessione di trading ciao dal mighty grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti